Stasera fratelli ponderò attraverso le scritture alla domanda perché Faraone si oppose alla partenza di Israele dall'Egitto. E questo è molto importante perché una volta che troviamo, siccome viene citato dall'Apostolo Paolo al capitolo 9 di Romani, se troviamo la risposta, se noi ripercorriamo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo e arriviamo alla conclusione anche noi a cui è arrivato l'Apostolo Paolo studiando anche lui le scritture, anche se sappiamo che lui è stato ispirato dallo Spirito Santo per scrivere l'Epistola ai Romani, noi seguiamo la strada del suo ragionamento per arrivare a rispondere, per avere la risposta a questa domanda. Cioè il perché Faraone si oppose alla partenza di Israele dall'Egitto. Avrebbe potuto farli uscire il popolo di Israele dall'Egitto alla prima, la seconda, la terza piaga? Avrebbe potuto farlo? E lui che non lo ha voluto? O cosa è accaduto a Faraone? Ecco, oggi risponderemo quindi a questa domanda con l'esame di quello che dicono le scritture. Quindi abbiamo detto che percorreremo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo nei suoi ragionamenti, quindi dobbiamo partire dall'Apostolo Paolo. Partiamo dall'Apostolo Paolo al capitolo 9 di Romani, dal versetto 10. 9, 10, leggeremo qualche versetto per partire, per capire il ragionamento di Paolo. Allora, dalla parola di Dio, aprite le vostre Bibbie al capitolo 9 di Romani, dal versetto 10 leggiamo quello che scrive l'Apostolo Paolo. Non solo, ma anche a Rebeca avvenne la medesima cosa, anzi, leggiamo dal versetto 9, scusate, quindi partiamo dal versetto 9 per non spezzare il ragionamento dell'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo fa questo ragionamento. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Non solo, ma anche a Rebeca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli. Poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè, io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, l'Epistola conosciuta dove viene spiegata la giustizia di Dio per la salvezza di ogni uomo, cioè come si fa a ottenere, a essere giustificati e a essere salvati. Come Epistola, non c'è Epistola migliore per questa esposizione che l'Epistola ai Romani. La salvezza è per grazia e nell'Epistola ai Romani l'Apostolo Paolo lo espone chiaramente sin dal principio. E tra le cose che riguardano la salvezza per grazia, la salvezza che Dio ha donato all'uomo, per spiegare questa salvezza, vedete, l'Apostolo Paolo parla anche del proponimento della elezione di Dio. E come ne parla dal capitolo 9? Ne parla in questa maniera, abbiamo letto. Questa è una parola di promessa, cioè che è Dio che sceglie, Dio fece questa promessa a Sara. Va bene, qui Paolo parte nel suo ragionamento dalla promessa che Dio ha fatta a Sara. La promessa è questa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Quindi Dio fece questa promessa a Sara. Fece una scelta a Dio, capite? E' da quel figliolo, dal figliolo della promessa che ci sarebbe stata poi, diciamo, sarebbe derivata la salvezza. Rappresenta questo figliolo, diciamo, tutti i discendenti, secondo la promessa, i discendenti di Abramo, secondo la promessa, però, tutti sono discendenti di Abramo, tutti quelli che hanno la fede di Abramo. Capite? Quindi è una parte importante anche qui che Paolo sta cercando, sta spiegando. Quindi tutti i discendenti di Abramo, secondo la promessa, sono figlioli di Abramo. Quindi non sono figlioli di Abramo quelli, diciamo, non sono salvati i figlioli di Abramo secondo la carne, ma sono salvati i figlioli di Abramo secondo la promessa, secondo la promessa della fede che Dio ha fatto ad Abramo. E Dio ha detto, appunto, ha fatto questa promessa. Ma non solo, e Dio poi ha fatto un'altra promessa, ha fatto una promessa anche a Rebecca, ha detto anche queste parole a Rebecca. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa. Quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Quindi Dio fece una scelta. C'erano due gemelli nel ventre di Rebecca, due gemelli. Bene. Il Dio scelse Giacobbe e non Esau. Fece una scelta. Vedete? Quindi il Dio sceglie. Dio fa misericordia a chi vuole. Vedete? Quindi perché? E come avviene questa scelta? Qui l'ha spiegato l'Apostolo Paolo al versetto 11 e 12. Guardate come l'Apostolo Paolo spiega la scelta che Dio fa di quelli che lui si vuole scegliere. Qui stiamo parlando della salvezza, perché Dio sceglie le persone che vuole salvare. Secondo come lui ha deliberato in cuor suo. E guardate quali sono gli elementi di cui lui tiene conto. Dice prima che fossero nati, quindi al versetto 11, prima che fossero nati. Quindi Dio fece la scelta prima della nascita. E dice anche prima che avessero fatto alcunché di bene o di male. Attenzione, questo prima che avessero fatto alcunché di bene o di male va inteso anche nella preconoscenza di Dio. Cioè il Dio non le ha considerate le opere di questi due uomini, non ne ha tenuto conto anche tenendo conto della sua preconoscenza. Cioè che lui vede il presente, il passato e il futuro nella stessa maniera. Egli è il Dio onnipotente a cui nulla sfugge. Lui conosce il nostro passato, lui conosce il presente e conosce anche il futuro. Quindi quando lui parla, parla tenendo conto di tutte queste situazioni. Quindi quando il Dio ha fatto dire, lo Spirito Santo ha fatto dire queste parole all'Apostolo Paolo, voleva appunto intendere questo. Vole intendere questo, cioè che Dio non ha guardato alle opere che hanno compiuto Esau o Giacobbe. Quando lui ha scelto, quando il Dio ha scelto Giacobbe, non ha tenuto conto delle opere di Esau. Ma Dio ha fatto una sua scelta, ha fatto una scelta. E qui dice ancora, continuando nel versetto 11, dice Affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. Cioè il proponimento è il proposito che Dio si era fatto in sé. Quindi rimanesse ferma la decisione che Dio ha preso in sé stessa. Che cosa riguarda questa decisione? Riguarda l'elezione di Dio. Cioè l'elezione. La predestinazione è conosciuta anche come il proponimento dell'elezione di Dio. Proponimento è il pensiero, la decisione, il proposito che Dio si è fatto al riguardo dell'elezione. Cioè è lui che ha deciso chi salvare e chi no. E lo ha fatto prima, addirittura, prima della fondazione del mondo. Perché prima della fondazione del mondo è stato scritto il libro della vita. Dove sono stati scritti tutti i nomi di coloro che avrebbe chiamato e poi avrebbe anche salvato. Quindi ciò è avvenuto prima della fondazione del mondo. Ora, questa decisione, questa decisione che Dio ha preso per quanto riguarda i salvati, adesso stiamo prendendo in considerazione la parte dei salvati, di quelli che Dio ha misericordi. Dice al versetto 12 che dipende non dalle opere. Qui queste parole non dipende dalle opere vuol dire che Dio sapeva già le opere che gli uomini avrebbero compiuto. Sapeva già il Dio il cuore degli uomini, li conosceva già, li conosceva già prima che venissero al mondo. Il Dio conosceva già tutto. Ma dice qui, l'Apostolo Paolo dice che non dipende però dalle opere, quindi non dipende dal cuore dell'uomo, non dipende dalla predisposizione dei cuori, non dipende dalla volontà dell'uomo, non dipende dalle opere dell'uomo, in maniera assoluta. Ma qui dice appunto non dipende dalle opere, ma vedete, ma in contrapposizione alle opere c'è la volontà di Dio. Dipende dalla volontà di colui che chiama e la volontà di colui che chiama chi è? Colui che chiama è l'Eterno, il Dio. Colui che chiama è il Signore. Quindi la salvezza, la chiamata, la chiamata e la salvezza dipendono appunto da Dio. Perché colui che chiama è Dio. Perché tutti quelli, come è scritto poco prima, è stato scritto, romani 8.29, stanno scritte queste parole. Perché quelli che, 8.29 di Romani, perché quelli che egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Onde egli sia il primo genito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Vedete, perché quelli che egli ha preconosciuti. Ora, il Dio ha preconosciuto i santi. Va bene? Ma questo preconosciuto vuol dire conosciuto da prima, mettiamo da prima della nascita. non possiamo considerarlo come se Dio avesse conosciuto soltanto, nel significato della parola, come se Dio avesse conosciuto soltanto i santi, quelli che sarebbero salvati. No, perché? Perché il Dio conosce l'empio da lungi, il Dio conosce anche tutti gli empi. Conosce cosa c'hanno nel cuore gli empi e lo sa, lo conosce, lo sa da prima della fondazione del mondo, anche per quanto riguarda gli empi. Quindi questo preconosciuti, dobbiamo trovare che cosa la scrittura intende con questa parola, conoscere da prima. La parola conoscere viene utilizzata nelle scritture per indicare un profondo affetto. Capite? Un profondo affetto tra due persone. Ad esempio, Adamo conobbe Eva e nacque Caino. Conobbe si usa nel rapporto di un profondo sentimento tra due persone, vedete, nel rapporto tra due persone il profondo affetto, la scrittura la chiama anche, questo affetto lo chiama anche conoscere. Capite? Quindi, quindi, quindi vuol dire affetto. Quelli che due, quindi rileggendo il versetto 29, avendo trovato questa spiegazione, perché altrimenti non sarebbe corretto, non gli si può dare altra spiegazione a questa parola, qui rileggendo sarebbe così, perché quelli che egli ha amati fin dal principio sarebbe così, ma in questo caso la parola preconoscere ha questo significato, che Dio, quelli che ha amato prima, mettiamo così, della fondazione del mondo, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Perché se la parola preconoscere avesse il significato normale di cui noi conosciamo, che noi sappiamo della parola conoscere, se avesse avuto quel significato, allora, come è possibile? Siccome Dio avrebbe preconosciuto in quel senso tutti gli uomini, buoni e cattivi, santi quelli che si sarebbero convertiti, figlioli di Dio, ma anche gli empi preconosce il Signore, cioè non è che gli empi non li preconosce, quindi se li preconosce tutti, però poi dice, vedete, li ha pure predestinati, quelli che ha conosciuto li ha pure predestinati, ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Quindi qui, per dare una spiegazione, per trovare una spiegazione al significato della parola preconosciuti, il significato dovrebbe essere qualcosa che esclude gli empi, capite? Perché gli empi non sono predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, ma solo i santi sono predestinati a questo. Quindi la parola, ora utilizzando, come abbiamo visto, che Adamo conobbe Eva, c'è scritto anche di Giuseppe, che Giuseppe non la conobbe, nel rapporto profondo di affetto, che si esplicita anche con il rapporto carnale tra marito e moglie, capite? È un rapporto profondo di affetto. Quindi vediamo da questi passaggi che il significato, il significato della parola qui, conoscere, è utilizzato, no? Adamo conobbe Eva, non viene utilizzato col suo significato normale che c'è nella lingua italiana, ma ha un significato particolare. Quindi le scritture, in questo caso, di Romani 8, 29, danno questo significato. Cioè, bisogna dare alla parola preconosciuti questo significato, quello amati profondamente, diciamo, prima della fondazione del mondo. Questo è il significato, non la traduzione, attenzione, non sto dicendo che è tradotto male, ma qui ci vuole uno sforzo, tenendo conto della somma della parola di Dio, per arrivare alla conclusione corretta, capite? Quindi non è che è tradotta male, è tradotta bene, però bisogna, quella parola non gli si può dare altro significato. Quindi, detto questo, abbiamo visto che quelli che Dio ha preconosciuti li ha anche chiamati, quelli che, cioè, li ha pure predestinati, e quelli che ha predestinato li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, capite? Quindi tornando adesso al passo che stiamo esaminando di Romani 8, 29, scusate, 9, 12, dice che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, perché abbiamo visto che Dio, quelli che ha predestinati, poi li chiama e poi, quindi, li giustifica, li giustifica, arriva a giustificarli, per mezzo della fede nel sacrificio di Cristo Gesù. Chi mette la fede nei santi per salvarli, la mette lo Spirito Santo. Quando il credente viene, diciamo, convinto quanto al peccato e alla giustizia di Dio, alla salvezza che Dio vi vuole donare in Cristo Gesù, è lo Spirito Santo che opera nel suo cuore, dentro di Lui. Quindi anche lì è Dio che opera nella salvezza. Ora, questi passaggi Paolo li ha citati per dimostrare che è Dio che sceglie, cioè quelli che devono essere salvati, e Dio li sceglie. Però l'Apostolo Paolo, guardate un po', dice al versetto 17, poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi l'Apostolo Paolo prima ha parlato della scelta che Dio fa per quanto riguarda la salvezza, e poi cita Faraone. Cita Faraone e la conclusione finale è che Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi il Dio opera sui due lati, opera dalla parte in cui deve avere misericordia delle persone che lui ha scelto, ha eletto a salvezza, ma poi agisce anche, è sempre lui che agisce nei confronti di quelli che egli vuole indurare. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo non solo dice che ci sono quelli che vengono scelti da Dio, che vengono eletti a salvezza da Dio, ma anche quelli che sono indurati, tutte e due, vedete. Per dimostrare questo, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ha citato Faraone. Cosa significa questo? Significa che l'Apostolo Paolo si è andato a leggere il libro dell'Esodo, dove si parla di Faraone, di come Dio ha trattato Faraone, e l'Apostolo Paolo è giunto a questa conclusione. L'Apostolo Paolo, eh. La conclusione a cui è giunto è stata questa, che Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi non solo è arrivata la conclusione che Dio fa misericordia a chi vuole, quindi sceglie e legge secondo il suo proponimento, secondo il beneplacito della sua volontà, come scritto in un altro punto delle scritture. Egli sceglie gli uomini che vuole salvare secondo le sue decisioni, che non sono collegate in nessuna maniera né alle opere né al cuore di quella persona, ma lui sceglie secondo la sua volontà. Ma non solo egli sceglie quelli da salvare, ma egli determina anche chi deve indurare. Perché egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi sempre dalla volontà di Dio dipende anche l'induramento. Per questo induramento l'Apostolo Paolo si, diciamo, lo vuole, l'ha confermare, l'ha voluto confermare citando Faraone. Ora, noi oggi ripercorriamo, andiamo a vedere alcuni passaggi dell'Esodo che parlano, appunto, di Faraone. In maniera che noi ripercorriamo la strada che ha percorso l'Apostolo Paolo e ci rendiamo conto anche noi di persona se la conclusione a cui l'Apostolo Paolo è giunto è corretta. Cioè, se anche noi leggendo il libro dell'Esodo giungiamo alla stessa conclusione. è chiaro che la risposta è così perché essendo parola di Dio ispirata ispirata anche l'Epistola ai Romani è chiaro che Paolo non si è sbagliato. Questo già lo sappiamo. Però noi lo stesso lo ripercorriamo perché noi ne dobbiamo tutti noi essere convinti in maniera che quando ci troviamo a dover parlare di questi argomenti noi sappiamo dimostrare chiaramente anche agli altri che le cose stanno così che non solo il Dio ha misericordia di chi vuole ma anche che il Dio indura capite che questa parte è quella parte che taluni diciamo osteggiano maggiormente cioè alcuni non sopportano il fatto che il Dio ad alcune persone le possa indurare capite invece la scrittura ci insegna che Dio compie anche questa opera di induramento non solo l'opera di salvezza ma anche l'opera di induramento su taluni e Faraone è uno di questi esempi oggi ne vedremo alcuni ma a cominciare da Faraone adesso noi andiamo a leggere nel libro dell'Esodo nel libro dell'Esodo cominciamo leggeremo alcuni passaggi quelli più importanti si dovrebbe leggere naturalmente voi dovreste leggere quando avete tempo e il tempo lo dovete trovare bisogna leggere tutto il libro dell'Esodo va bene in particolare da dove inizia la questione con Faraone e l'uscita del popolo di Israele dall'Egito le dieci piaghe e tutto quanto tenendo conto di come il dio si relaziona con Faraone capite tenendo conto di questo ora noi prenderemo solo alcuni passaggi per riflettere su questi però è bene leggere tutti i capitoli facendo molta attenzione a quello che è scritto ora noi andiamo a leggere capitolo 4 di Esodo aprite le vostre Bibbie e andate al libro di Esodo al capitolo 4 dal versetto 21 leggiamo queste parole dal versetto 20 quindi voi sapete che Mosè fu mandato da Dio per liberare il popolo di Israele avvenne avvenne questo leggiamo Mosè dunque prese la sua moglie e i suoi figlioli li pose su degli asini e tornò nel paese di Egitto e Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio e l'Eterno disse a Mosè quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere ricompiere ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo e tu dirai a Faraone così dice l'Eterno Israele è il mio figliolo il mio primogenito e io ti dico lascia andare il mio figliolo affinché mi serva e se tu ricusi di lasciarlo andare ecco io ucciderò il tuo figliolo il tuo primogenito voglio farvi notare fratelli che qui c'è racchiuso l'inizio no? la chiamata di Mosè Mosè che deve andare a parlare a Faraone e Dio dà già la conclusione finale ma in questa conclusione finale che è praticamente la decima piaga la morte dei primogeniti e anche compreso il primogenito del Faraone ma qui dice dice avete notato come al versetto 21 dice ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo vedete cioè il Dio nella sua sovranità perché egli fa quello che vuole ha mandato Mosè a dire a Faraone di lasciare uscire il suo popolo però gli dice non ti farà uscire non farà uscire il popolo di Israele perché non lo farà uscire qui c'è scritto c'è scritto io gli indurerò il cuore vedete quindi l'Apostolo Paolo quando nella pistola ai Romani ha scritto che Dio avrebbe indura chi vuole capite è collegato cioè ci è arrivato a quella conclusione che noi leggiamo in Romani ci è arrivato perché in Esodo c'è scritto ma questo non è l'unico passaggio adesso ne leggeremo anche altri capite cioè l'Apostolo Paolo è arrivato a una conclusione leggendo le scritture e noi vediamo che alla stessa conclusione anche se noi non avessimo letto il passaggio in Romani leggendo qui il libro dell'Esodo e dobbiamo riconoscere che qui Dio dice che l'avrebbe indurato quindi anche noi senza considerare quello che Paolo ha scritto in Romani avremmo dovuto dire allora se confermato anche in altri passaggi della scrittura il Dio indura chi vuole quindi non solo egli chiama chi vuole ma anche indura chi vuole capite quindi questo oggi prendiamo in considerazione in maniera particolare il fatto dell'induramento e del fatto che Dio opera come vuole lui muovendo le persone come vuole lui il re in questo caso si tratta di un re e di un re anche molto potente ora andando avanti andando avanti qualche capitolo avanti adesso leggiamo al capitolo 7 di Esodo dal versetto 1 7.1 di Esodo l'Eterno disse a Mosè vedi io ti ho stabilito come Dio per Faraone e Aronne tuo fratello sarà il tuo profeta tu dirai tutto quello che ti ordinerò e Aronne tuo fratello parlerà a Faraone perché lasci partire i figlioli di Israele dal suo paese e io indurerò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto e Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere il mio popolo il figliolo di Israele mediante grandi giudizi e gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figlioli di Israele quindi vedete qui ancora una conferma dice manda Mosè e Daronne a parlare a Faraone e già preannuncia e Dio già preannuncia vedete a Mosè e a Daronne che Faraone non li avrebbe fatti uscire ma perché dice anche perché non li avrebbe fatti uscire subito non li avrebbe fatti uscire perché al versetto al versetto 7 al versetto 3 capitolo 7 di Esodo c'è scritto io indurerò il cuore di Faraone vedete è Dio che ha indurito il cuore di Faraone che avrebbe indurito il cuore di Faraone perché perché Dio aveva già preparato che prima di far uscire il suo popolo dall'Egitto avrebbe dovuto farsi un nome e per farsi un nome sia diciamo in mezzo al popolo d'Egitto e sia in tutte le nazioni in tutte le nazioni della terra che avrebbero udito parlare dell'Iddio di Israele avrebbero udito che l'Eterno ha fatto dei grandi segni e prodigi e ha mandato dei grandi giudizi potenti nel popolo d'Egitto contro il popolo d'Egitto che teneva prigioniero il popolo di Israele in quella maniera con le dieci piaghe il Dio si è fatto un nome un nome potente un nome grande in mezzo alla terra capite quindi c'era bisogno c'era proprio bisogno che Dio diciamo indurasse il cuore di Faraone affinché non li facesse uscire fino a quando fino a quando le piaghe non sarebbero terminate fino a quando il Dio non ha stabilito quando il Dio ha ritenuto che il suo nome era ormai grande nel popolo dell'Egitto in tutta la terra sarebbe stato grande il suo nome attraverso i segni allora ha fatto uscire il suo popolo d'Israele dall'Egitto quando e come lui ha deciso di fare per quanto riguarda Faraone quindi c'era bisogno che Dio operasse nel suo cuore operasse nel suo cuore impedendogli di far uscire il popolo di Israele dall'Egitto adesso andiamo a leggere ancora avanti andiamo a leggere andiamo a leggere capitolo 8 di Esodo dal versetto 8 al versetto 8 leggiamo qui siamo alla seconda piaga quindi Mosè e Aronne sono andati dal faraone e faraone si è rifiutato si è ostinato in cuor suo perché si è ostinato in cuor suo perché Dio lo ha indurato e non voleva far uscire il popolo di Israele dall'Egitto quindi siamo alla seconda piaga la piaga delle rane dopo che venne questa piaga leggiamo adesso cosa accade capitolo 8 di Esodo al versetto 8 allora faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse loro pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo e io badate bene attenzione qui e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici all'Eterno e Mosè disse a faraone fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie supplicazioni per te per i tuoi servitori per il tuo popolo che l'Eterno distrugga le rane intorno a te e nelle tue case e non ne rimanga se non nel fiume e gli rispose per domani e Mosè disse sarà fatto come tu dici affinché tu sappia che non v'è alcuno pari all'Eterno che è il nostro Dio e le rane si allontaneranno da te si allontaneranno da te dalle tue case dai tuoi servitori e dal tuo popolo non ne rimarrà che nel fiume Mosè e Arone uscirono da faraone e Mosè implorò l'Eterno relativamente alle rane che aveva inflitte a faraone e l'Eterno fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case nei cortili e nei campi le rane le radunarono a mucchi e il paese ne fu ammorbato ma quando faraone vide che vi era un po' di riposo si ostinò in cuor suo e non die ascolto a Mosè e a Darone come l'Eterno aveva detto vedete al versetto 8 abbiamo visto che già alla seconda piaga quella delle rane faraone cosa disse disse di pregare di liberarlo da quella piaga e avrebbe fatto andare avrebbe fatto uscire il popolo avrebbe fatto andare via il popolo va bene ora le piaghe Mosè implorò l'Eterno e la piaga delle rane fu tolta da sopra l'Egitto ma faraone mutò faraone mutò parere si ostinò in cuor suo capite c'è ci fu un momento in cui faraone voleva far uscire il popolo di Israele dopo però il suo cuore mutò cambiò e trattenne trattenne il si ostinò in cuor suo e trattenne il popolo di Israele ora vedete ci sono due volontà contrastanti in in faraone una parte in un primo momento voleva farli uscire in un secondo poi si ostinò si rifiutò di farli uscire ora da un momento all'altro la questione è questa da quello che abbiamo letto anche in precedenza siccome abbiamo letto che Dio non avrebbe indurato faraone fino al momento in cui non sarebbe arrivato il momento che il figliolo di faraone morisse ecco quel momento non era ancora giunto quindi anche se faraone in cuor suo era spinto portato a far uscire il popolo di Israele per le piaghe che già stavano cadendo su di lui il Dio operò nel suo cuore indurandolo capite lo indurì cioè il faraone voleva farli uscire ma Dio lo indurì il suo cuore e si ostinò quindi ecco perché si dice che fu ostinato di cuore faraone ma perché Dio lo aveva indurato quindi quando noi leggiamo nelle scritture va bene quindi è corretto dire che faraone la volontà di faraone alla fine era quella la volontà di faraone di non far uscire il popolo di Israele dall'Egitto cioè questa parte è corretta quindi quando noi troviamo in alcuni punti delle scritture che dice che il tale vuole fare questo o non vuole fare quest'altro da quel punto di vista è corretto biblicamente perché se è scritto così è scritto così però vedete esaminando questi versetti noi comprendiamo che quel tipo di volontà quel tipo di ostinazione esaminando faraone vediamo che quella ostinazione quella volontà di faraone è stata messa nel suo cuore è stato spinto da chi? da Dio è Dio che ha operato nel cuore di faraone indurandolo quindi è corretto quando noi diciamo che è Dio che indurisce certo ma è corretto anche quando nelle scritture dicono dice che voi non avete voluto no? faraone non ha voluto far uscire il popolo di Israele dall'Egitto è corretto come concetto ma non è completo capite? è corretto ma non completo perché non è completo? perché faraone noi sappiamo perché abbiamo letto il versetto precedente che faraone voleva far uscire il popolo di Israele e qualcosa è successo nell'intermezzo tra quando lui voleva e tra quando lui ha deciso di non voler far uscire il popolo di Israele è accaduto qualcosa e la scrittura ci risponde a questo ci dice che Dio indura chi vuole capite? quindi il faraone è stato indurito da Dio gli ha fatto mutare parere praticamente quindi ritornando al concetto generale quando troviamo nelle scritture che una persona vuole fare una certa cosa è corretto però è corretto anche perché la scrittura ce lo insegna che quel tipo di volontà in lui è stata formata da Dio capite? ed è quello che non accettano taluni si fermano soltanto ad esaminare no? Gerusalemme Gerusalemme quante volte ho voluto radunarvi sotto le ali e voi non avete voluto quando Gesù dice queste parole a Gerusalemme sono parole corrette badate bene ma non sono complete perché la somma della parola è quello che ci dà la completezza dell'intendimento infatti è vero sono parole verace quando Gesù dice voi non avete voluto ma certo però dalla somma della parola noi impariamo che è scritto che chi è che gli ha dato quel tipo di volontà chi è che ha creato in loro quella volontà di non volere essere raccolti come una chioccia raccoglie i suoi pulcini ma noi sappiamo che è Dio che opera nei cuori dell'uomo per mettere in lui per operare in lui il volere quindi così come ha indurato Faraone il Dio indura anche tutti gli altri quindi comprendete questo ho voluto prendere in considerazione questi passaggi biblici per farvi capire che nella scrittura quando troverete che taluni non vogliono fare una certa cosa vogliono farla la volontà è loro certamente che è in loro in quel momento è loro la volontà ma diciamo l'insegnamento lì non è completo perché dalla somma della parola noi sappiamo che quella volontà in quella persona è stata creata da Dio è stata operata da Dio dentro di lui così nella stessa maniera come Dio ha operato nel cuore di Faraone l'induramento dopo che lui aveva decretato di voler far uscire il popolo di Israele capite questo è importante questo è il punto cruciale perché se voi comprendete questo accettate questo dalle sacre scritture voi troverete la spiegazione corretta di tutti gli altri passaggi biblici che incontrerete quando incontrerete un passaggio biblico che vi sembrerà che la volontà dipenda dall'uomo voi invece sapete e no perché non è completo cioè lì dice lo dice perché in quel momento la volontà dell'uomo è quella e non sbaglia la scrittura non sbagliano le scritture a dire questo però noi sappiamo che quella volontà gli è stata messa da Dio capite guardando alla somma della parola se voi comprendete questo comprenderete questo concetto voi troverete sicuramente la spiegazione troverete che non ci sono parte della scrittura che si contraddicono per quanto riguarda l'elezione per quanto riguarda la predestinazione ma noi andiamo avanti perché noi abbiamo citato solo alcuni passi e ne citeremo solo alcuni ma ce ne sono molti altri sempre al capitolo 8 di Esodo andando avanti perché le piaghe eravamo alla seconda piaga uno stesso ragionamento accadeva quasi in tutte le piaghe per ogni piaga succedeva che un faraone si ammorbidiva e Dio lo induriva praticamente perché perché faraone non doveva fare uscire il popolo di Israele se non nel momento stabilito da Dio dopo che fossero state diciamo lanciati tutti quei giudizi che Dio aveva stabilito sul popolo d'Egito per farsi un nome potente su tutta la terra e andiamo a leggere capitolo 8 ancora il versetto 28 sta scritto e faraone disse io vi lascerò andare quindi qui siamo è avvenuta la quarta piaga delle mosche velenose per quanto riguarda la quarta piaga le mosche velenose ecco che cosa dice faraone dopo quella piega dice faraone disse io vi lascerò andare perché offriate sacrifizi all'eterno che è il vostro dio nel deserto soltanto non andate troppo lontano pregate per me e Mosè e Mosè disse ecco io esco da te e pregherò l'eterno e domani le mosche si allontaneranno da faraone dai suoi servitori e dal suo popolo soltanto faraone non si faccia più beffe impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici all'eterno e Mosè uscì dalla presenza di faraone e pregò l'eterno e l'eterno fece quel che mosè domandava e allontanò le mosche velenose da faraone dai suoi servitori e dal suo popolo non ne restò neppure una ma anche questa volta faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo quindi vedete fratelli e sorelle nel versetto 28 dice faraone disse io vi lascerò andare e poi passata la piaga dice si ostinò in cuor suo quindi vedete ci sono due momenti diversi ci sono due momenti diversi un punto in cui la volontà di faraone era quella di lasciare andare il popolo e poi dopo si è ostinato però questa ostinazione nel cuore di faraone noi ora sappiamo anche chi l'ha prodotta non è non si è prodotta da sé non è prodotta dallo stesso faraone questa ostinazione perché la scrittura ci dice che Dio avrebbe indurato il cuore di faraone affinché si ostinasse a non fare uscire il popolo fino a quando fino a quando Dio non fino a quando non ha stabilito il momento opportuno il Dio quindi vedete che c'è scritto ancora ancora noi comprendiamo quello che Dio ha fatto in faraone andando avanti adesso leggiamo al capitolo 9 di Esodo al versetto 12 guardate leggete quindi siamo alla sesta piaga le ulceri che caddero sul popolo d'Egitto e sicuramente diciamo faraone dopo altre piaghe aveva intenzione la sua volontà era quella di far andare via il popolo d'Israele e sì perché le piaghe stavano diventando su tutto l'Egitto molto forti molto potenti molto dannose per tutto l'Egitto e al versetto 12 quindi capitolo 9 versetto 12 di Esodo guardate cosa è scritto e l'Eterno indurò il cuore di faraone ed egli non dì ascolto a Mosè e ad Aronne come l'Eterno aveva detto a Mosè cioè ancora qui ricordato che la scrittura ricorda qui che l'Eterno che indurò il cuore di faraone non era faraone che si induriva da solo capite ma era l'Eterno che induriva il suo cuore affinché non desse ascolto a Mosè e perché questo perché come l'Eterno aveva detto a Mosè cioè tutto questo avveniva affinché si adempisse si adempissero le parole che Dio aveva preannunciato a Mosè dall'inizio dovevano andare a compimento si dovevano compiere le parole che Dio aveva preannunciato perché badate bene quando Dio dice una cosa poi quella farà metterà in atto tutte quelle azioni affinché affinché le sue parole siano adempiute non cade a terra nessuna delle parole di Dio e Dio ha a disposizione tutti perché Dio muove i cuori delle persone e gli fa fare quello che lui vuole capite in una parola stiamo dicendo che Dio regna su tutto il suo creato il Dio regna per noi il Dio è sovrano egli regna dall'alto dei cieli e tutto dipende da lui ma andiamo avanti perché non è non è leggiamo adesso anche della settima piaga anche sulla settima piaga sulla grandi vediamo cosa dice al versetto leggiamo questo della settima piaga leggiamo dal versetto 13 poi l'Eterno disse a Mosè levati di buon mattino presentati a Faraone e digli così dice l'Eterno l'Idio degli ebrei lascia andare il mio popolo perché mi serva poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore sui tuoi servitori sul tuo popolo affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo tu saresti stato sterminato di sulla terra ma no io ti ho lasciato sussistere per questo per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra e ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare quindi qui vedete qui c'è la citazione praticamente la citazione quella che ha preso l'apostolo paolo per al versetto 16 paolo ha citato questo versetto per dimostrare che dio indura a misericordia di chi vuole e indura chi vuole perché qui c'è anche il motivo capite c'è anche il motivo per cui dio ha operato in quella maniera al versetto 16 infatti rileggendo vediamo io ti ho lasciato sussistere per questo cioè poco prima ha detto guarda che se io sei dio avrebbe voluto far uscire il popolo di israele già dall'inizio avrebbe mandato una peste avrebbe fatto morire tutti gli egiziani avrebbe potuto far morire faraone con tutta la sua famiglia e far uscire il suo popolo questa era nella potenza di dio cioè dio poteva farlo infatti l'ha detto il dio l'ha detto l'eterno no ma non lo ha fatto e qui ci è spiegato anche perché c'è scritto io ti ho lasciato sussistere per questo per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra infatti dopo che vennero compiute tutte queste piaghe in egitto dopo che dio mandò tutte queste piaghe contro il popolo d'egitto egli si fece un nome grande e potente poi col passaggio del mar rosso ancora oggi noi ci ricordiamo delle piaghe d'egitto del passaggio del popolo d'israele nel mar rosso come grandi opere potenti che il nostro dio ha fatto sì il nostro dio colui che ci ha salvati anche a noi è lo stesso dio che ha compiuto tutti quei segni quei prodigi là quei giudizi che ha mandato là in egitto per un motivo ben preciso che lui stesso ha spiegato ed è quello di farsi un nome su tutta la terra egli fa quello che vuole vedete quindi non ci dobbiamo meravigliare se c'è scritto che Dio indura chi vuole non ci dobbiamo scandalizzare nessuno si deve scandalizzare perché le scritture insegnano che Dio ha misericordia di chi vuole ma indura anche chi vuole indurare andando avanti andando avanti quindi siamo alla piaga viene la piaga delle grandine leggiamo al versetto 27 capitolo 9 di esodo dal versetto 27 allora questo abbiamo detto la piaga della grandine al versetto 27 allora faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne e disse loro questa volta io ho peccato l'eterno è giusto mentre io e il mio popolo siamo colpevoli pregate l'eterno perché cessino questi grandi tuoni e la grandine e io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti quindi dopo che scese questa grandine quest'altra piaga potente contro l'Egitto faraone vedete si umilia faraone riconosce che Dio è potente e quindi questa piaga lo ha piegato lo ha umiliato e ha promesso di far uscire il popolo di Israele però cessata la piaga Mosè prega l'eterno cessa la piaga ecco cosa accade al versetto al versetto più avanti 34 e 35 leggiamo e quando faraone vide che la pioggia la grandine e i tuoni erano cessati continuò a peccare e si ostinò in cuor suo lui e i suoi servitori e il cuor di faraone si indurò ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele come l'eterno aveva detto per bocca di Mosè vedete cioè quindi il cuore di faraone voleva andare far uscire il popolo di Israele ancora una volta alla piaga della grandine che era la settima piaga poi dopo cessata la piaga il cuore di faraone mutò ancora però qui dice vedete il versetto 35 dice che il cuore di faraone si indurò ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele come l'eterno aveva detto per bocca di Mosè vedete quindi ancora una volta la scrittura ricorda che a operare l'induramento a operare l'induramento di faraone era stato era stato il dio perché l'aveva preannunciato a Mosè vi ricordate quando abbiamo letto che dio avrebbe indurato il cuore di Mosè il cuore scusate di faraone per non far uscire il popolo di Israele dall'Egitto così l'eterno ha detto e così avveniva fino a quando non sarebbe scesa anche l'ultima piaga che abbiamo letto che sarebbe stata quella della morte del figliolo di faraone ma andiamo avanti poi al capitolo 10 ad esempio più avanti 10.1 dice e l'eterno disse a Mosè va da faraone poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori per fare in mezzo a loro i segni che vedrai e perché tu narri ai tuoi figlioli ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro onde sappiate che io sono l'eterno avete visto quindi qui al capitolo 10 versetto 1 ai primi versetti del capitolo 10 di esodo leggiamo appunto che il dio il dio dice chiaramente che è dio che ha reso ostinato il cuore di faraone e dice e rinnova ancora il motivo per cui è stato fatto per fare in mezzo a loro i segni che vedrai perché tu narri ai tuoi figlioli ai figlioli dei tuoi figlioli quello che ho operato in Egitto vedete quindi dio ha operato tutte queste cose su faraone ha ostinato il suo cuore lo ha ostinato il dio appunto perché doveva compiere i segni e prodigi per lasciarsi una testimonianza potente affinché tutti avrebbero tutta la terra ancora oggi badate bene non solo allora si parla delle dieci piaghe che caddero in Egitto ma ancora oggi noi ne parliamo noi vedete ne stiamo leggendo alcuni pezzi ma quante volte noi preghiamo oppure leggiamo i salmi oppure leggiamo le scritture e ci ricordiamo dei segni e dei prodigi che dio ha fatto in Egitto dei segni e prodigi che dio ha compiuto in maniera potente e gloriosa e noi ci viene in mente poi il fatto che colui che ha operato in Egitto tutti quei segni e quei prodigi è il nostro dio è il nostro protettore è colui che ci ha rigenerati spiritualmente è colui che a noi ci protegge perché mentre da una parte da una parte le piaghe scendevano sopra l'Egitto dall'altra dove soggiornava nel paese di Goshen dove soggiornava in Egitto in quella parte lì dove soggiornava il popolo di Israele queste piaghe non cadevano capite perché questo è il nostro dio che da una parte punisce quelli che lui vuole punire ma dall'altra protegge il suo popolo quindi questo è il nostro dio questi segni e questi prodigi ci dicono quindi ci dicono che dio chi è dio chi è lì dio che noi invochiamo e che adoriamo quando noi ci inginocchiamo per adorare e glorificare il dio ecco chi è il dio il dio è anche non è solo colui che ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per noi e a spargere il suo sangue affinché i nostri peccati fossero rimessi ma è anche colui che proteggeva il popolo di Israele quando era in Egitto e mandava le sue piaghe sopra il popolo d'Egitto capite questo è il nostro dio il nostro dio è potente da fare quello che lui vuole non c'è nulla di impossibile alla sua mano quindi noi dobbiamo avere questa fiducia piena in Dio in Gesù Cristo nella sua parola capite dobbiamo avere una piena fiducia non dobbiamo venire mai meno nella fede ma essere fortificati leggendo tutte queste cose veniamo appunto fortificati nella fede ma andiamo avanti a leggere ancora altri passaggi avanti ancora andiamo al versetto 7 vediamo cosa dice qui e i servitori di Faraone gli dissero fino a quando questo uomo ci sarà come un laccio lascia andare questa gente che serva all'Eterno lì Dio suo non sai tu che l'Egitto è rovinato quindi a un certo punto vedete a un certo punto a un certo punto i servitori di Faraone si resero conto che le piaghe erano così potenti che l'Egitto era quasi completamente rovinato e mancavano ancora l'ottava la nona e la decima piaga altre piaghe terribili però già i servitori di Faraone cedevano Faraone no perché il Dio aveva decretato di ostinare il cuore di Faraone e noi ancora andiamo avanti e leggiamo ad esempio al versetto 20 dopo che venne l'ottava piaga quella delle locuste avviene anche qui che Faraone colpito dalle piaghe chiede a Mosè e poi la piaga cessa e e e e e e Faraone si induriva di nuovo infatti al versetto 20 c'è scritto ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele vedete ancora una volta è scritto che è Dio che ha indurato il cuore di Faraone e poi leggiamo ancora nell'ultima piaga al capitolo 11 versetto 1 e l'Eterno disse a Mosè io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto poi egli vi lascerà partire di qui quando vi lascerà partire egli addirittura vi caccerà di qui vedete quindi con la morte del figliolo di Faraone con la morte di tutti i primogeniti dell'Egitto ecco che Faraone si decise a far uscire il popolo di Israele però vedete che cosa dice l'Eterno a riguardo di questo dice egli vi lascerà partire di qui quindi Dio ha decretato con l'ultima piaga quella piaga la decima piaga con la morte dei primogeniti d'Egitto ha decretato che Faraone facesse partire il popolo di Israele quindi il popolo di Israele è uscito è uscito dall'Egitto nel momento in cui Dio ha stabilito dopo tutte le piaghe che Dio aveva già preparato di mandare sopra il paese d'Egitto quindi Dio ha operato in questa maniera su Faraone adesso noi cosa dobbiamo fare dobbiamo vedere ad esempio dobbiamo guardare ma quello che Dio ha operato nel cuore del re Faraone di Faraone che era il re d'Egitto no? ma l'ha operato anche su altri re ha operato in questa maniera solo lì con Faraone ebbene prendiamo altri esempi voglio prendervene altri due di esempi però dobbiamo andare a leggere nel libro di Esdra nel libro di Esdra nel libro di Esdra al capitolo 1 che poi è avvenuto è avvenuto quello che è scritto nei proverbi no? avviene sempre quello che è scritto nei proverbi perché nel libro dei proverbi al capitolo 21 stanno scritte queste parole 21 1 di proverbi il cuore del re nella mano dell'eterno è come un corso d'acqua egli lo volge dovunque gli piace vedete anche Salomone perché il libro dei proverbi è stato scritto da Salomone un uomo che era pieno di sapienza una sapienza che gli era provenuta da Dio ha scritto queste parole che il cuore del re anche dei servitori abbiamo visto anche i servitori anche il cuore dei servitori era nelle mani dell'eterno ma anche il cuore dei re come dice Salomone nella mano dell'eterno è come un corso d'acqua egli lo volge dove vuole vedete dovunque gli piace quindi il cuore del re la volontà del re la sua dove il re deve operare la volontà del re è Dio che la forma in lui è Dio che forma la volontà dei re e anche di tutti gli altri uomini a conferma di questo leggiamo appunto abbiamo visto abbiamo letto di Faraone ma leggiamo anche del re Ciro al capitolo 1 di Esdra dal versetto 1 nel primo anno di Ciro re di Persia affinché si adempisse la parola dell'eterno pronunziata per bocca di Geremia l'eterno destò lo spirito di Ciro re di Persia il quale a voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto così dice Ciro re di Persia l'eterno l'iddio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme che in Giuda chiunque tra voi e del suo popolo sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme che in Giuda ed edifichi la casa dell'eterno dell'iddio di Israele dell'iddio che a Gerusalemme tutti quelli che rimangono ancora del popolo dell'eterno in qualunque luogo dimorino la gente del luogo li assista con argento con oro con doni in natura bestiame aggiungendovi offerte volontarie per la casa dell'iddio che a Gerusalemme quindi vedete il popolo di Israele come abbiamo letto il popolo di Israele che era malvagio era disubbidiente ai comandamenti di Dio fu punito dall'eterno fu portato in cattività fu portato in Babilonia fu portato in Persia bene però per bocca del profeta Geremia fu detto che questa cattività questa prigionia del popolo di Israele in Babilonia e in Persia sarebbe durata settant'anni bene ora trascorsi i settant'anni qui dice al versetto 1 Esdra 1 1 abbiamo visto affinché si adempisse la parola dell'eterno pronunziata per bocca di Geremia l'eterno destò lo spirito di Ciro re di Persia vedete quindi Dio venuto il momento da lui stabilito destò anche lo spirito di Ciro che fece un edito per liberare il popolo di Israele affinché tornasse in Giuda affinché tornasse a Gerusalemme ecco qui vedete un'altra conferma un'altra conferma che il Dio opera nei cuori degli uomini quello che lui vuole da punto di vista di Faraone l'abbiamo Paolo lo ha citato l'Apostolo Paolo per dimostrare che il Dio ha misericordia di chi vuole ma indura anche chi vuole quindi ha citato Faraone e noi siamo andati a ripercorrere le letture di Paolo a riguardo di Faraone per vedere se anche noi leggendo le cose che ha letto Paolo in Esodo giungessimo alle stesse conclusioni e a me mi sembra che la risposta sia sì dobbiamo obbligatoriamente giungere alle stesse alle stesse conclusioni a cui è giunto l'Apostolo Paolo ma non perché l'Apostolo Paolo era solo ispirato da Dio ma anche perché in Esodo la conclusione è quella quella che abbiamo visto l'Eterno ha detto tante volte che avrebbe indurato il cuore di Faraone fino a quando lui avrebbe fino al momento in cui Dio ha stabilito di fare uscire il suo popolo e così è avvenuto il Dio lo ha detto il Dio lo ha fatto e così è avvenuto nella stessa maniera il Dio ha detto che il popolo di Israele sarebbe rimasto prigioniero del re di Persia del re di Babilonia per 70 anni giunto il momento il Dio mette nel cuore del re di Persia di Ciro re di Persia di fare un editto e di liberare il popolo di Israele vedete il Dio mette nel cuore degli uomini quello che devono fare per portare a compimento la volontà di Dio per portare a compimento l'opera di Dio ma non c'è solo quello c'è anche un passaggio che dice le stesse cose che però riguarda il futuro che riguardano il futuro qui dobbiamo andare che ancora deve avvenire qui dobbiamo andare a leggere in Apocalisse al capitolo 17 quindi in Apocalisse al capitolo 17 leggiamo queste parole lo leggiamo dal versetto 12 e le dieci corna che hai vedute sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno ma riceveranno potestà come re assieme alla bestia per un'ora costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il signor dei signori e il re dei re e vinceranno anche quelli che sono con lui i chiamati gli eletti e i fedeli poi mi disse le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue e le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco poiché il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempite vedete quando verrà l'anticristo perché la bestia è l'anticristo ci saranno dei re ci saranno degli uomini che avranno una certa autorità e Dio metterà in cuore di queste autorità di questi re di dare la loro autorità e la loro potenza a quella alla bestia alla bestia all'anticristo perché così Dio ha stabilito lo ha stabilito Dio lo ha stabilito nel passato di fare di compiere determinate cose ma Dio lo ha stabilito anche per il futuro quindi vedete il presente è racchiuso tra il passato e il futuro quindi quello che Dio ha fatto nel passato quello che Dio farà nel futuro lo fa anche al presente il Dio muove le autorità come muove tutte le persone come Lui vuole mettendo in cuore quelle cose che devono portare a compimento il piano e tutti i piani e i disegni di Dio questo il Signore ha stabilito questo leggiamo attraverso attraverso le scritture che Dio ha operato nei cuori ha ostinato i cuori ha operato nei cuori degli uomini anticamente lo fa ancora oggi e lo farà anche in futuro leggiamo anche anche nei credenti guardate bene questo avviene l'opera di Dio la compie anche nei credenti ad esempio leggiamo in Filippesi al capitolo 2 al versetto 13 dice così poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza vedete quindi anche nei nostri cuori il volere è una certa volontà e certe opere che dobbiamo compiere è Dio che le compie in noi quindi se noi facciamo il bene ad esempio non ci dobbiamo gloriare di nulla non dobbiamo sentirci superiori a nessuno né gloriarci di nulla perché è l'Eterno che opera in noi quel po' di diciamo quella volontà di fare il bene è Dio che ce la mette in cuore vedete come il Signore non è che siamo liberi capite cioè l'uomo non è libero di fare quello che gli piace perché l'uomo non è libero di contrastare di contraddire l'opera che Dio ha pianificato perché Dio ha fatto un progetto dei disegni cioè un'opera da compiere l'uomo non è libero di distruggere quello che Dio ha già i disegni che Dio ha formato già quindi mansi gli uomini sono i Dio opera nei cuori degli uomini affinché portino a compimento i disegni di Dio quindi l'uomo non è libero non esiste nessun libero arbitrio fratelli e sorelle perché è Dio colui che opera interviene nei cuori degli uomini per fargli fare quello che lui ha stabilito quello che secondo i disegni che lui che Dio stesso ha stabilito quindi per terminare rileggiamo le conclusioni di Paolo volevo concludere questo questo ragionamento che ho fatto con voi sul fatto che Dio non solo ha misericordia ma anche indura chi vuole quindi ritornando a leggere al versetto 9 17 di Romani rileggiamo poiché la scrittura dice a Faraone appunto per questo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole quindi per quanto riguarda la salvezza dobbiamo tenere sempre presente questo versetto il versetto 18 perché Dio si attiene a questo versetto questa è la conclusione a cui è giunto l'Apostolo Paolo e quindi questa conclusione dell'Apostolo Paolo che abbiamo visto leggendo in Esodo che è anche la nostra conclusione ed è questa che Dio fa misericordia a chi vuole ma egli indura anche chi vuole quindi Dio opera queste due cose quindi ha misericordia ma anche indurisce i cuori delle persone quando lui decide di indurirle perché egli è l'Eterno questa è diciamo la giustizia che Dio ha posto pertanto nessuno si può opporre nessuno è inutile che uno contende con Dio e gli dice ah ma perché fa questo perché fa quest'altro si mettono molti a giudicare l'operato di Dio quando invece Dio regna è sovrano e fa esattamente quello che gli piace perché il nostro Dio è il vasaio tutti gli uomini sono la terra sono i vasi di terra il vasaio dei vasi di terra ne fa quello che vuole non è il vaso che dice al vasaio fammi così è il vasaio che fa i vasi li fa come egli vuole quindi l'Eterno regna e questo era il messaggio che oggi che questa sera volevo portarvi appunto per dimostrarvi quello per puntualizzare il fatto che non solo Dio sceglie e questo è capito da molti ma meno è capito il fatto che Dio indurisce i cuori perché Dio quelli che non vuole salvare quelli che Dio ha già decretato di non salvare quindi di non farli pervenire alla salvezza quelli che ha già decretato li indurisce non li fa andare alla salvezza ma indurisce i loro cuori quindi Dio opera nei cuori di quelli che devono essere salvati ma opera anche nei cuori di quelli che non non devono essere salvati perché Dio così ha deciso nella sua sovranità secondo il suo proponimento e il beneplacito della sua volontà a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén